È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede misure a sostegno dei comuni fino ai 5.000 abitanti. Si tratta di contributi per il pagamento dei tecnici coinvolti nei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come spiega il Presidente dell'Anci Molise, Pompiglio Sciulli. I comuni sotto i 5.000 abitanti rappresentano il 90% dei comuni molisani. Con questa possibilità che è stata inserita nei fondi del PNRR i comuni sindaci hanno la possibilità di prendere tecnici comunali e all'interno dei fondi del PNRR poterli pagare. Ciò significa che con questi tecnici loro possono far fronte anche alle scadenze del PNRR che attualmente ricordo, parliamo del 2026, e non saranno prorocate queste scadenze perché sono soldi che dopo l'Italia deve rendicontare all'Europa. Quindi i sindaci hanno bisogno di queste persone, di questi tecnici, proprio per far fronte a quelle che sono le necessità tecniche ed amministrative all'interno del Comune. Nel decreto anche contributi per il pagamento dei segretari comunali. I segretari comunali praticamente sappiamo i costi, nessun comune si può permettere un segretario comunale soltanto per il proprio comune, se non ripartirlo con oneri tra più comuni con convenzioni. All'interno del PNRR c'è anche la possibilità di prendere, di prevedere una quota, anche perché tra i vari adembimenti molti sono amministrativi, quindi i comuni necessitano anche di questa figura professionale. Il PNRR spiega Sciulli è un'opportunità da non perdere, chiedo ai sindaci, aggiunge il presidente di Anci Molise, di avere lungimiranza. C'è un invito di sindaci ad essere un pochino lungimiranti, a non realizzare la classica cattedrale nel deserto, se dopo non si sa neanche come poterla gestire, ma sono fondi che in qualche modo devono avere una visione, devono avere una prospettiva di sviluppo, magari sapendo coinvolgere anche il privato, creare una sorta di società pubblico-privata in modo che questi fondi vengano sfruttati al meglio.